Salve a tutti ragazzi sono N1001 Oggi troviamo su Warface Oggi giochiamo qua assieme al nostro fuciliere Con questo nuovo fucile Che non mi ricordo di averlo provato Però siccome l'ho comprato ormai dobbiamo provarlo Quindi facciamo Team Deathmatch e iniziamo subito a provare questo fucile Vediamo Ok ragazzi siamo all'interno del gioco Già vediamo che i nostri alleati si stanno teletrasportando Si vede sta laggando da fare schifo Perfetto oggi siamo in una bella giornata Andiamo ragazzi andiamo andiamo di qua Non c'è nessuno non c'è completamente nessuno E' impossibile tutto ciò Sicuramente uno c'è qui sopra dove dobbiamo per forza controllare Ah non c'è nessuno Perfetto ragazzi meglio così Però guardate che ho visto Che è stato già ucciso dal nostro alleato Grandissimo alleato Ha fatto già una kill Raggiungiamo Guardate chi c'era L'abbiamo preso alle spalle E l'abbiamo fregato Perfetto adesso andiamo di qua No no peccato Questo fucile quando spara saldella Vabbè non importa Adesso seguiamo il nostro alleato Qui dai Ti seguo ti seguo Io lo sto seguendo ragazzi Poi non so niente Bene andiamo di qua ragazzi Io sto Qualcuno stava sparando Buttiamoci quindi di qua Aia mi sono fatto male Dai c'è un cecchino sta camperando Gio Ma è incredibile Col cecchino sta camperando Ok abbiamo fatto un assist Oh no Nasconditi Ho lanciato una granata No maledizione Mi sei riuscito a scappare Anzi no Sono andati da un'altra parte Però vabbè Cerchiamo di fregarli questa volta Quindi andiamo di qua Se il personaggino corre ovviamente No ma cosa sta succedendo qui Oh cosa succede Che cosa è successo No non vedevo più niente Peccato Beh vabbè ragazzi Comunque abbiamo finito la partita Spero che il video Che cosa è successo Spero che il video vi sia piaciuto Levati stimolo Lasciate un mi piace Iscrivetevi attivando la campanella E ci vediamo un prossimo video Ciao ciao Ciao